L'emozione è enorme, è chiaramente diversa rispetto a quelle di 5 anni fa che è un po' incredulo entrare qua dentro, mi sembrava vero di poter diventare sindaco di Napoli. Adesso c'è la maturità, c'è un senso di responsabilità, mi hanno affidato le chiavi della città dopo 5 anni di governo, avverto tutta la carica e la responsabilità di questo, ce farò di tutto per non deludere nessuno, anzi di recuperare anche chi è ancora agnostico, chi è diffidente, chi ha perso in qualche modo la speranza. Napoli è proiettata in un futuro secondo me straordinario, io vedo una carica in città e una carica fuori città per la città che è una cosa che non si è mai vista, quindi lavoreremo alacremente, in realtà ci siamo messi immediatamente a lavorare, non c'è stato nemmeno un giorno di pausa, adesso facciamo la proclamazione e poi si riprende questa avventura per i prossimi 5 anni per Napoli, per la città per portarla sempre più in vetta a livello internazionale. Si riparte da dove abbiamo cominciato, il lavoro, la città, soprattutto lavorare nei luoghi della sofferenza, sofferenza materiale e umana. I prossimi 5 anni il lavoro sarà molto in quelle zone, dobbiamo stare vicino a chi sta molto in difficoltà ancora nella nostra città, questa è la mia priorità personale. Poi abbiamo le priorità, l'insediamento del Consiglio Comunale, il bilancio di previsione che è importantissimo, la giunta, la consultazione con la città, ma la giunta è un atto che dovrò fare in tempi abbastanza rapidi, ci sarà sicuramente, come ho detto, una prima fase molto rapida di prosecuzione e poi si consoliderà quella che è la nuova giunta nei prossimi giorni. Mi auguro anche che il Consiglio Comunale sia migliore di quello precedente, che io ho ringraziato, che ha fatto un lavoro enorme, però mi auguro che possa esserci una carica propulsiva maggiore, ci possa stare una efficace dialettica tra maggioranza e opposizione. Noi siamo proiettati comunque a governare alla grande questa città, noi siamo pronti e non c'è nessun timore, l'unico timore possibile era il non essere eletti, ormai non ci ferma più nessuno.